...di essere uno sciatore veramente molto scorrevole, e quindi, ma ecco, adesso stiamo... sta partendo Gunther Matherhouse, 24 anni, 15esimo al termine della prima prova, e vediamo subito che cosa ci propone questo secondo tracciato. Vediamo nella parte alta del percorso, adesso le sorti si sono invertite, Mather sta sfruttando praticamente quelle possibilità che aveva Alberto, che aveva avuto Alberto la primavera. 23,45, il primo intermedio. Vediamo, c'è una porta lunga, che bisogna riuscire a tirare bene, senza fare la curva in due tempi, in un tempo solo. Il punto è molto importante, ecco, vediamo, adesso Mather è passato molto bene in questo tratto, prima del pianolo finale, vedete come è schiacciato, questo anche lui si mette in posizione, emulando un pochino il suo canazionale, che la prima mancia ha rischiato moltissimo, forse ha perso il podio, e mi riferisco a Maier. Conclude con 1-3.